Questo è il tuo intento, quindi guardando su senti i passi di lui, cerchi di non farti vedere, poi dopo staccheremo e vedremo la scena su di lui, lo prendi e lo tiri giù. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non è male! Perché c'è un volano? Grazie per la visione! Grazie per la visione!